Nell'Aula Magna Setta, Livatino del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, è stato sottoscritto un protocollo di intesa per la prevenzione del contrasto della violenza di genere domestica attraverso la promozione e l'attualizzazione di programmi di recupero dei maltrattanti. Iniziativa promossa dal Presidente delle Porte d'Appello, Maria Grazia Vagliasindi. Presenti il Procuratore Generale, Antonino Patti, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, Gabriella Canto, la Delegata del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, Emanuele Romeo, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta, Salvatore De Luca, il Questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, il Questore di Enna, Corrado Basile. Con questo protocollo, il primo in Italia di questo genere per le istituzioni firmatarie, sarà prioritario intervenire dando tutti gli strumenti utili ad assicurare la prevenzione attraverso percorsi di recupero della vittima e del maltrattante, in collaborazione con soggetti del volontariato. Il protocollo è stato sottoscritto anche dai dirigenti, degli uffici giudiziari, degli stretto di corte d'appello di Caltanissetta e dei Presidenti, dei consorsi degli ordini degli avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela.